Musica 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 Compa io ho paura che tipo poi alla fine non si sente niente di questo bisbigliato Col penbank Cassette compa, proprio per te Me la metto a pulire dalla tua seda? Si si dai messi da la portatura che finiamo No no no, non mi piace, non mi piace Però compra la sacca della munzia Eh si giustamente Che cazzo hai fatto compa? Che cosa? Che cazzo hai disegnato? Che cazzo hai disegnato così? Ci terrei a precisare che questo colpo in banca è stealth Assolutamente quindi Quindi ci destreggeremo Faremo del nostro meglio per farci baccare Apocalisse ovviamente perchè noi siamo di alto livello Oh la cazzo della macchina Aspetta, aspetta, no 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 Ma gli metto il lupo Tu vieni l'altro Vieni l'altro Vai 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 Si vabbè lo prendi dopo cazzo Vediamo, speriamo che qua ci sono le telecamere Eh cristo Aspetta Pura colonna ma andai a me Mi hai spuntato Mi hai spuntato davanti il coso Davanti il Il poliziotto No dai il poliziotto Se no lo uccide tu il coso il direttore Oddio Ugo Vai pre pre rispondi tu che io apri un cazzo di culo che abbiamo avuto Sì si infanzi Non fa le due gambe Vada? Uccidili uccidili Uccidi il poliziotto Se c'è il poliziotto uccidilo Se c'è il poliziotto uccidilo Uccidilo il poliziotto Cazzo cazzo Oh oh l'ho ucciso L'ho ucciso Cazzo sta succedendo non ci sto capendo Tranquillo tranquillo tutto è sotto controllo Oh Oh che cazzo succede il jammer No 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 Ok 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 questo è fail questo è fail ma si no 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 si crashato No Vabbè non è stato aperto come Oh c'è Quello col pantalone 2 e ghin Oh di nuovo qui sulle telecamere ok uno è morto l'ho fatto scoprire il cervello oh e mi devi correre subito e subito ok e mi non è mi corri corri rispondi a questo rispondi a quello e delle telecamere vai madonna 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 in tempo che cazzo di culo che cazzo di culo ma meno male che ho lanciato subito il trapano se no che cazzo alla fine si deve prendere il trapano di visto io vedo un attimino tutte le telecamerine in modo veloce vediamo sono tutte le listi testi di cazzo guarda già che mi chiamano tipo persone di alto calibro come io toby per fare i video con lui eh però tu non puoi mai accettare no io non posso mai accettare perché o sono impegnato o con gente di così basso calibro eh no eh no dai perché che c'è compa sto scendo di qua sto scendo di qua con cinque anni ogni cinque anni carica un video non sto scherzando ciao evi 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 che cazzo li sto facendo aspettare il cazzo vuoi vedi che c'è ancora un poliziotto non so se lo sai si si lo so acqua acqua stai tranquillo sta prendendo un caffè con me allora facciamo così e su giambra rendiamo ok ah l'ho sprovvisto dove via vai 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 subito subito go 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 compagli ho sparato di buona la mascella ricordagli a quella la di spostarsi perché poi quando la fega la uccido e come sempre sempre qua davanti eh eh si qua davanti poi l'uccido sempre come fuori fuori sta correndo un cazzo di barese come sticare l'odio e il razzismo nei video ah 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 oh Gesù Cristo ah 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 ma chiatility belculo persona nera ahahah vedi che questo video te lo segnala basta basta non ci gioco a quindicina dato che abbiamo spostato la ragazza di colore ci dà di più no la ragazza di colore possa a povertà faccio vedere ai miei iscritti拜拜 come fai quel salto allora lui non riesce a fare questo salto che lo fa pure Dio che non sa giocare, non ha le mani, vai vai ce la fai ce la fai ce la fai ce la fai vai ce la fai ce la fai oh se ce la fai, aspetta aspetta che mi tolgo sta cosa, magari che la pistola sono più leggero può essere vai uuuuh vai c'è no, ma che fa, ma l'hai trapassato, te lo giuro pure con questo rincorso lo prendo, arrivo pure lontano guarda dove arrivo dai c'è ah io fino a qua ci arrivo che non lo so allora cos'è, oh no il trapano, il trapano vabbè io provo a fare il salto si tu provo a fare il salto, allenati si se ci riesco 100.000 like si mi sembra giusto per il capobastone oh si si è raggiustato da solo sono arrivato tipo, e vedi il 10% serve eh 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 è giusto, una volta che il 10% succede però aspetta di 360 Cristo no se te la faccio di 360 voglio 37.000 like c'è l'asma ha costo troppo non c'è andiamo andiamo, hai aperto il cavote sto dicando si si si, però io voglio fare l'istante vai 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 no 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 non può non può non può emi oh cazzo emi devi scendere che sto pezzo di merda ha chiuso le cose che cosa? usa la motosega compa quanto cazzo stai facendo vedi che non stai facendo male eh ho capito che vi metto il trapano e faccio prima lo aspetta rompam vai 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 le munizioni sono dove cazzo sono le munizioni? ho finito le munizioni no emi emi dove sono le munizioni? ma non le avevo piazzate ma che cazzo dinci? le piazzate emi ma dol oddio no non è vero non le ho piazzate piazzale piazza ecco e come faccio cazzo ne so ma c non lo voglio rientrare a 10 settembre e ci scusiamo con io toglie non ha potuto partecipare per questi video promettiamo la prossima volta per però almeno ti abbiamo ti abbiamo anche citato nel video ti abbiamo chiamato video ormai tante persone ti stavano per conoscere quindi assolutamente se stai guardando questo video cioccolato oh guarda qua ho 6 munizioni guarda quanto cazzo di oro c'è ok ho finito le munizioni sto per rientrare oh ma cazzo hai abbandonato di nuovo eh si vabbè ma quelli ultimi li facciamo a mano non c'è bisogno vabbè forse sega facciamo con la sega forse comunque adesso contattiamo un cazzo di barese e gli facciamo scaricare poi idee così almeno così ci prendiamo le parole no vabbè i barese diciamo che c'hanno vabbè anche i napoletani c'hanno diciamo un privilegio ovvero che posso rubare le macchine su questo gioco secondo me tipo ci sono più dislike e like in questo video probabilmente non ne farò più di ciccio gamer però ok ora seriamente fai allora se arrivi a 15 dislike si allora ti compro cs e facciamo video di cs ok ok una nuova meta ragazzi mettete dislike se arrivo a 15 dislike mi regalate il cs allora innanzitutto ci portiamo un pensierino a casa ah si si il ricordino vabbè tu porti il tuo che porti il mio eh eh beh di questa fantastica avventura insieme dai che buttino di merda vabbè dai ci sta ci sta sì anche la modalità specifica no prima di abbandonare io voglio fare l'ultimo salto ah si allora andiamo vai ce la fai no vabbè vabbè dai comunque direi di concludermi vedete se mi fai se mi fai acquisire 50 e 100 giga eh è pronto eh ragazzi allora io vi ringrazio per la visione aspetta però fai vedere quanto abbiamo preso assolutamente assolutamente non abbiamo preso un cazzo cioè allora dato che abbiamo raggiunto non so quanti iscritti perché tiger non me lo vuole dire facciamo un giveaway guarda eh 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 in questo giveaway diamo un milione e tre di contanti perfetto cazzo il primo il primo che indovina sotto nei commenti il mio numero degli iscritti gli do la password del mio canale cazzo lo giuro però avete una sola possibilità posso darvi un solo indizio e il nuovo lo compri sopra uno e centomila ragazzi da dal tiger ma che cazzo è perché c'ho ex presidente aspetta no 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 devo mettere sicario guarda come siamo alle grandi comunque ragazzi da mister tiger ed emic è tutto bella via via fa e funfoot canale su la musica in i